Dai, strecci, fai uno strecci, vuoi vedere che sei un calciatore, di qualcosa di spagnolo. Caramba! Caramba, è una meraviglia, c'è un'altra. Adesso entrate voi, entri di qua, Ilona, tu Moana, basta, sti capelli vanno bene, come sono, sono. Entri di qua, per l'altra parte. Ok. Vai, dialogo. Ciao, io e la mia amica Moana siamo delle sue grandi ammiratrici. E ci piacerebbe tanto avere un suo autografo. Ah, non c'è problema, però non vengo nada. E donde te lo pongo? Beh, veramente, a noi ci piacerebbe tanto che ce lo ponesse proprio qui. Dillo, qui, nel culetto, dillo. Ah, qui, nel culetto. Vai, tu, oppure? Oppure dove vuoi? Oppure sulla fecuzza, vedi, sulla fecuzza. Sulla fecuzza? Ok, benissimo, vedi emozionato. Poi stacchiamo e riprendiamo il senso. Va bene.